e allora amici carissimi buongiorno eccomi qua ritornata per un nuovo video sull'otto con alcune spiegazioni importanti allora buone feste fatte ieri anche se di questa repubblica voglio dire non è rimasto quasi niente o poco però lasciamo perdere questo tasto non tocchiamo questo tasto se no non sono qui di certo per parlare di politica altrimenti mi bannano il canale e lasciamo perdere perché ne avrei di cose da dire ma lasciamo stare dai ragazzi passiamo a noi passiamo all'otto con cose più importanti allora l'ultima estrazione come potete vedere ci sono tanti vertibili gemelli vertibili gemelli e vertibili lo sapete che i gemelli portano i vertibili e i vertibili a loro volta portano i gemelli chiusa parentesi allora questo 34 43 subari scusate vogliamo vedere da dove è venuto fuori adesso andiamo a vedere subito un attimo solo che trovo l'estrazione vado indietro allora ecco qua spero che si vede bene allora dal 20 maggio avevamo la condizione del 34 43 perché perché adesso vi spiego una cosa importante quando abbiamo dei numeri in prima e quinta posizione sono numeri consecutivi non so se mi sto spiegando i numeri consecutivi specialmente in prima e quinta posizione fanno somma quindi il 22 più il 21 ci dava il nostro bellambo subari 43 vertibili 34 tra l'altro io due giorni fa mi pare vi avevo dato la previsione al 5 minuti allora ragazzi vi spiego una cosa quando io vi do una previsione faccio un video veloce anche col 5 minuti in quel video magari ci sono dei numeri che sortiscono su ruota non è che io faccio i video e vi devo dire tutti i numeri perché questa cosa ragazzi non è possibile ecco voi sapete che sono sempre a pagamento non è che si possono regalare i numeri così ragazzi io vi posso dire un numero due numeri al massimo ma chiaramente tutti si fanno pagare giustamente va così cosa volevo dirvi allora torniamo all'estrazione all'estrazione all'ultima estrazione allora questa non è arrivo subito ragazzi arrivo subito allora eccoci all'ultima estrazione del primo giugno e di fatti il 34 43 è sortito fino qua tutto chiaro penso allora adesso vi dico che con la sortita del 40 come vi ho spiegato l'altra volta il 40 figura 4 allora vi rifaccio un attimo lo schemino allora 147 147 allora ritorniamo all'estrazione voglio farvi vedere una cosa per volta ritorniamo all'estrazione del 30 maggio è sortito il 40 il 40 come vi ho già scritto fa parte della terna naturale perché figura 4 fa parte della terna 147 allora è chiaro che se noi abbiamo il 40 che figura 4 porterà il 7 quindi il numero sarà Lambo 47 74 adesso che è già sortito giusto giusto perfetto adesso ragazzi in abbinamento al 34 potrebbe starci il 14 o 41 perché manca proprio questa formazione gli ultimi due numeri della terra ci sono sono sortiti con 47 74 mancano i primi due quindi 14 o 41 ed è anche probabile perché perché torniamo sempre indietro nell'estrazione torniamo sempre indietro se la trovo non la trovo evidentemente non l'ho scritta va bene faccio da me ragazzi quanto i numeri sono quelli allora arrivo subito prendiamo un foglio evidentemente non ho trascritto l'estrazione non ho trascritto l'estrazione qualche estrazione fa su Bari è sortito numero oro 21 con doppio oro 41 fin qui ci siamo allora tra questi due numeri c'è la distanza 20 fin qui ci siamo allora essendo che è presente la distanza 20 i due numeri si ripetevano infatti il 21 è risortito e adesso mancherebbe il 41 però anche covertibile 41 14 sempre su Bari anzi lo scriviamo dai manca proprio questo poi cosa volevo dirvi oh guardate un attimo qua sempre il 30 maggio 72 e 27 figura 9 vi ricordate cosa vi ho detto l'altra volta che quando c'erano i numeri abbinati al 7 si moltiplicavano le cifre quindi 7 per 2 fa proprio 14 e questa ve l'ho detta chiaramente 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 ci possiamo abbinare anche il 4 il vertibile del 40 eh non ci dimentichiamo di questo 4 4 14 4 41 per me questi numeri devono sortire mancano ancora d'accordo ragazzi poi cosa volevo dirvi vi dovevo dire un'altra cosa vediamo se mi ricordo perché ho tante le cose che vorrei dirvi allora vediamo un po' fatemi trovare sempre all'estrazione perché volevo mostrarvi un'altra cosa ah ecco perfetto sì allora ragazzi ritorniamo sempre al discorso della terna allora dopo il 4 c'è il 7 giusto ma se noi lo leggiamo al contrario è 74 adesso il 43 o 34 è figura 7 se noi aggiungiamo il 7 a destra viene sì 37 che è anche un numero ottimo da giocare ma viene anche 73 il 34 sempre figura 7 dopo il 4 c'è il 7 viene sì 47 ma viene anche 74 guardate altri numeri un altro ambro consecutivo della decina diciamo della settantina d'accordo ragazzi un'altra cosa se voi sommate vi faccio vi voglio far capire bene ragazzi è ovvio che se voi sommate 43 più 34 fa 77 ma 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 vi sto dando un aiuto grandissimo qua eh ma attenzione nell'estrazione del 23 maggio guardate allora io vi do una dritta quando osservate le estrazioni dovete osservare anche la posizione di sortita di un numero allora il 23 maggio guardate bene abbiamo il 67 in quinta posizione su Bari figura 4 l'estrazione dopo il 25 cosa ho scritto qua marzo mamma mia scusate ragazzi invece di scrivere maggio ho scritto marzo vabbè è la vecchiaia allora l'estrazione dopo il 25 maggio è sortito il suo vertibile 76 se noi mettiamo 76 67 in diagonale ci dà 66 e 77 il 77 la somma di 43 34 ha i suoi vertibili che sono 3 79 76 67 quindi ragazzi attenzione quando fate le somme di due numeri di stessa figura di uguale figura fate anche il meno 1 e questo e questo è la prova vedete 76 in quinta e l'estrazione prima 67 in quinta quindi è lo stesso numero al contrario ecco ecco in queste quando ci sono queste condizioni dovete stare attenti e osservare bene d'accordo ragazzi allora io vi ho scritto qui alcuni numeri che potrebbero uscire su Bari chiaramente non vi do la previsione precisa perché lo sapete che è un abbonamento allora dov'è l'ultima estrazione vediamo un attimo eccola qua allora io vi ho segnato qui non so se si vede bene vi ho segnato dei numeri eh che potrebbero sortire su Bari potrebbero potrebbero non diamo mai il 100% ragazzi eh mi raccomando potrebbero sortire potrebbero eh cosa volevo dirvi più allora ragazzi io non voglio azzardare però da quello che ho potuto vedere ci sono delle somme che combaciano su Bari Milano e Napoli c'è un terno che potrebbe andare su Bari io uso sempre il condizionale ragazzi attenzione ecco perché le vincite lo sapete nell'otto non le garantisce nessuno e vincite garantite nell'otto ragazzi non esistono eh perché poi non cominciavo a dire mai uscito non è uscito allora le vincite nel lotto non le garantisce nessuno non si possono garantire chi vi dice il contrario vi prende in giro punto e qua chiudo la parentesi allora io penso di avere un terno che poi la lotto italia faccia uscire due numeri al posto di tre eh questo lo sappiamo tutto è lecito per la lotto italia tutto è possibile per la nostra cara lotto italia potrebbero uscire due invece di tre va bene va benissimo però io vedo tre numeri su Bari già sortiti su un'altra ruota e su Milano Napoli due terni due terni da fare anche in lunghetta ok ragazzi non vi posso dire nient'altro perché queste informazioni sono non si possono dare così come al solito chi si fida di Stefi e chi mi crede chi ha fiducia in me il mio numero è questo sempre il solito 328 12 85 780 ragazzi io vi ho detto tutto quello che potevo dirvi chiaramente non posso dare numeri importanti perché non sarebbe neanche giusto a parte se vi do la previsione la lotta Italia buonanotte suonatori e non escono proprio lo sapete come funziona con la lotta Italia è inutile che ve lo sto a ripetere ve lo ridico 50.000 volte se ve li dico qua i numeri ai 420 non usciranno proprio quindi sono previsioni segrete chi è interessato secondo me secondo il mio modesto parere c'è un terno su Bari che si ripete uscito su un'altra ruota è due terni sul Milano Napoli già sortiti in più potete fare la lunghetta d'accordo ragazzi io di più non posso dire non posso assolutamente dire eh cercate di capire che è interessato è chi è interessato e vuole scoprire qual è o quali sono questi terni perché non posso assolutamente dirli qui su Youtube mi contatta e io vi do la previsione con la lunghetta d'accordo ragazzi allora la Stefi vi saluta vi voglio un mondo di bene vi abbraccio vi auguro buon pranzo e vi faccio tanti tanti auguri da questa sera ragazzi buona fortuna e alla prossima un bacione da Stefi grazie